Attilio Urciuolo, servizi internet e siti web. La seconda prova, latino al liceo classico, matematica allo scientifico, economia aziendale per l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing degli istituti tecnici, tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo servizi commerciali degli istituti professionali. Lunedì 26 ci sarà la terza prova, mentre martedì 27 si terrà nelle scuole che la prevedono la quarta. L'annuncio è stato dato da Francesco Branca, capo della struttura tecnica degli esami di Stato, in un video che fa parte della campagna di comunicazione del Ministero dal titolo No Panic. La campagna, sottolinea Fedeli, è partita con il video con cui abbiamo annunciato le materie e la seconda prova e accompagnerà maturande e maturandi fino alla fine della maturità. Vogliamo che il Miur parli di più e in modo più diretto con studentesse e studenti e non venga percepito come un luogo distante o legato esclusivamente ad aspetti burocratici. La campagna continuerà con nuovi video, post dedicati, grafiche e tutorial che nelle prossime settimane saranno diffusi attraverso i canali social del Miur. Per quanto riguarda le scuole, sede di seggio per le amministrative in caso di ballottaggi, la terza e l'eventuale quarta prova si svolgeranno rispettivamente il 27 invece che il 26 e il 28 anziché il 27 giugno.